Io dico sempre, vuoi giocare in prima squadra? Deve essere un uomo? Certo. Cioè, certe volte vengono da me i ragazzi o i genitori, ma vai lì, mi hanno fatto non so che cosa, può parlare con l'allenatore, può parlare con il direttore? No. Ah, ma perché tu hai la forza? No, non posso parlare, perché se tu pensi che sia, che sei pronto per giocare, per veramente portare questa maglia, deve essere pronto per andare dal tuo allenatore e dire, cioè mister, perché? Non ho capito. Devi avere la forza sportiva di farlo. Ma certo, ma con educazione, con rispetto, ma devi farlo, perché così veramente diventi qualcuno che può prendere quel, cioè quel momento in campo dove deve prendere certe decisioni, sei un uomo. Volevo iniziare dal tuo percorso, perché tutti conoscono quello che sei adesso, però in pochi conoscono come ti sei avvicinata al calcio. La passione di Roca nasce dal mio papà, da bambinissimi, piccolissimi, portavo io a mio fratello già allo stadio, avevamo la bandiera del Santos nella finestra, Natale, popazzo se dici, popazzo di Santos che cantava tutto quello hino della società, è così, non c'è una vita senza calcio. Poi sono cresciuta nello sport, nel senso che mio padre giocava a basketball, anche mio fratello, ma anche tutta la giornata ero sempre a fare qualcosa, dopo scuola non si andava a casa, si andava lì dove si faceva sport e quindi è lì si stava fino a quando si andava a casa per dormire e mi sembrava proprio normale vivere lo sport, questo è il primo. Dopodiché andiamo avanti, io quando faccio legge inizio a fare insegnanti di diritto e vedevo che gli studenti non è che si interessavano tanto a parlare di trattato del mare o come quello che dice la clausola 27i del codice che non so di chi cosa e nessuno veniva. Quindi andavi lì, quella bella lezione con tre persone che ti guardavano, quindi mi sono detta guarda che peccato perché c'è tanto da imparare, anche se poi forse non lavorerai, nel mio caso con diritto internazionale. e mi dicevo come faccio a venire a loro, ho trovato lì un spazio perché all'epoca non esisteva il diritto sportivo e quindi c'era spazio in diritto internazionale per parlare di FIFA, il giorno in cui ho detto parliamo di FIFA, parliamo da calcio, quando? Non lo so, venite, forse c'è, e iniziano a venire, c'è finita storia che io dovevo chiudere le porte perché non c'era più spazio, le sedie veramente si sono riempite e anche quelle che non facevano quello corso venivano e questo è stato bellissimo. Un bel giorno apro questa porta che dovevo chiudere, ma veramente fuori c'era un calciatore, c'era un calciatore che mi dice ciao ho bisogno di un consiglio e ho sentito che lei conosce questo universo che era la nuova legge, legge Pelé, dove cambiava molto il calcio in Brasile e sì va bene andiamo, andavamo nella mia stanzetta, una stanzetta piccola così, parliamo un po' e lì inizia il percorso, dopodiché il mio compagno dice ma stai parlando di calcio? e lui mi dice ma anche io facciamo qualcosa insieme perché ho un cliente, c'è qualcosina da fare andiamo dal cliente, era Rivaldo, Rivaldo e Cesar Sampaio che avevano aperto una società non erano i gestori ma era la loro società e questa società si faceva una nuova società di calcio si chiama Guaratingheta che esiste fino ad oggi e noi abbiamo costituito, creato questo club e lì inizia il percorso perché proprio in quell'episodio lì, quel contesto lì un bel giorno arriva qualcuno che voleva fare società con loro e questo qualcuno era Mino Raiola e lì l'ho conosciuto e tutto il resto è storia, iniziamo una collaborazione ho letto che la prima volta che vi siete incontrati avete subito litigato è stato disastroso perché io infatti ero in questa società di Rivaldo, CSR si chiamava Cesar Sampaio Rivaldo e loro mi chiamano e dicono c'è questo gruppo italiano che vuole fare qualcosa in Brasile può venire, parliamo insieme con loro e io dico sì vengo, arrivo lì, c'è uno proprio così un orologio grande così, rosso così, fumava come una cimini e faceva tante domande e questo era Mino e tante domande tante domande e io dicevo la legge dice così no, la legge no ma non si può, dopo mezz'ora ho detto ma scusa non la conosco però fa lei l'avvocato brasiliano perché io me ne vado e io me ne sono andata perché anche io lavoravo al governo all'epoca ah, è andata via ma veramente è passato quasi un anno e sto nel mio telefono perché all'epoca cioè non c'era Instagram, Facebook, non è che trovavi le persone e credo anche che nessuno ha facilitato c'è questo passaggio e mi chiama, era proprio Mino e dice guarda io voglio lavorare in Brasile ma solo con te ho detto perché, perché me ne frega e lui fa no perché sei stata l'unica che mi ha detto di no quindi ho capito che non voleva i miei soldi, voleva fare capire le cose, ho detto va bene ma lei è molto tipatico e lui mi fa sì ma dai, dai, iniziamo da capo, ho detto va bene proviamo, abbiamo provato e abbiamo continuato a litigare per 30 anni però con poca animosità e tanta amicizia e piano piano avete trovato un equilibrio? no, mai sì, le prime volte appunto che lavoravate insieme era sul Brasile e poi vi sarei spazzate sull'Europa sì, abbiamo iniziato al Brasile, in Brasile lì c'era un grosso cambiamento di legge e i giocatori iniziavano a uscire dal Brasile in un altro formato che non importa adesso ma tutto una dinamica diversa e c'era un calciatore si chiamava Fabio Montesine è andato all'Udinese all'epoca, è stato il mio primo lavoro comino, è stato questo e allo stesso tempo abbiamo fatto qualcosa con Boca Juniors io ero a casa un bel sabato, dormivo, mi sono nel telefono, era questo famoso Raiola e mi fa può andare in Argentina? ha detto, perché? no, perché sto facendo un trasferimento lì, ovviamente è troppo lontano, normale, lui mi fa sono in Europa e c'è da fare domani può andare tu lì con il calciatore? sì, va bene, ci vado, ma come è la trattativa, fammi capire tutto, così vado lì e vedo il contratto e non ci vai lì chiuderla? e ha detto, c'è meno scusa ma non l'ho mai fatta, non ho idea, è così così eccetera vai tu e siamo andati io e Giorginho Paulista e andiamo lì, arriviamo lì io e Giorginho a un'epoca molto strana di questo calcio antico, con cose molto strane che dicevano all'epoca e io come avvocato dicevo, no, no e no e quindi quasi non si fa, l'abbiamo fatta e dopo di che sono iniziata, inizio a venire in Europa per portare giovani brasiliani, perché era tutto molto diverso riguardo il regolamento e venivano tanti giovani in Europa, già molto più giovani da quello che accade oggi e quindi inizio a venire, inizio a venire con Mino, fare andata e ritorno, facciamo un provino di qua, un provino di là e guarda ne ho visto di tutto, ne ho visto di tutto, ho visto cose molto brutte, cose molto belle e quello mi ha fatto fare una riflessione dove ho detto, sai, calcio non è superficiale come immaginavo io da fuori e c'è veramente qualcosa da fare che può essere rilevanti, può essere importanti nel senso di quell'epoca lì mi dicevo per i brasiliani, perché io veramente, cioè mi è capitato di trovare ragazzi brasiliani che vivevano nell'illegalità completa, nascosti, come si dice, sopra, sai quando c'è la società, c'è la sede quando devi salire, come si dice sopra, la manzarda, dormivano per terra e qualcuno mi ha portato a fare un provino e adesso non mi fanno tornare, non ho il biglietto, non ho il passaporto, quindi veramente ho visto cose brutte e cose belle e mi sono dette, sai, mi interessa anche come avvocato capire un po' questo mondo e vedere un po' se c'è qualcosa interessante da fare e poi ovviamente ho visto tanto il bello ma il bello va senza dirlo, ovviamente il bello fa facile. In cosa a livello, magari anche da avvocato, è cambiato di più il calcio in questi anni? È cambiato ma al 100%, è cambiato tutto, tutto è cambiato, c'è ad oggi un ragazzo da 14-15 anni a un procuratore, era inimmaginabile questo prima, noi in società abbiamo giocatori, se così possiamo chiamarli da 11 anni, cioè sul regalo di compleanno l'ho fatto come regalo un palone, che cosa fai? Certo. Cioè parlo più con la mamma che con lui, normale, mica vado a manipolare un ragazzino da 10 anni, non si fa, no? E quindi tutto è diventato molto, tutto arriva molto più presto adesso e si aspetta da ragazzo una professionalità, una maturità che tante volte nemmeno è compatibile con la sua età. Certe cose sono impossibili, io non posso comportarmi come uno da 30 anni quando ne ho 15 e tante volte si aspetta così e poi c'è tanta pressione, ce ne stanno tanti riflettori sopra di loro che veramente uno si deve sviluppare molto velocemente e il rischio è molto grande perché c'è anche un'illusione, una fantasia che tutto funzionerà. Noi quando siamo adulti sappiamo che una cosa può andare male o può andare bene, ma non mi sembra che un ragazzo molto più giovane abbia questa percezione, il ragazzo molto più giovane si dice, vedi che lì è al Milan e dice sono calciatore. La strada è fatta e non è fatta, è molto lunga e si va tutto bene, è bellissimo, ma si va tutto male è molto rischioso da un punto di vista umano e su questo dobbiamo sempre stare molto attenti, poi quando la strada va bene è fantastico e ad oggi vediamo anche i giocatori, ragazzi da 18 anni, 19 che sono veri giocatori, giocano già, sono in prima squadra, sono preparati, sono maturi e tutto questo è un grosso cambiamento. Poi io dirò che prima calcio era solo calcio, io solo diciamo in quale senso, era un universo suo, c'era calcio, avevi il tuo sponsor di scarpe, facevi due foto e una volta all'altra facevi la Gazzetta dello Sport e andavi a casa, pomeriggio giocavi un po' quello che si giocava perché nemmeno era online, quindi era un po' più noioso, non è che potevi giocare per vent'ora, giocavi da solo e uscivi con la tua moglie a fare shopping, era lì il tuo momento di riposo, ma ad oggi il giocatore è un atleta, atleta 360 vuoi dire non solo quando si trova in società. Il giocatore va a casa, deve sapere come mangiare, fa sempre un po' una preparazione di più o qualcosa per ricoperarsi o un po' di fisio, fa sempre qualcosina di più perché si prepara di più. Il giocatore ad oggi ha una mentalità fuori campo, come devo comportarmi, come deve essere la mia vita per allungare il mio percorso, per ammigliorare la mia performance. L'accesso a contenuto che esiste oggi non esisteva. Prima noi parlavamo due minuti fa, certe volte ci mettevo otto giorni per poter vedere il gol. Oggi vado su YouTube e posso rivedere tutti quei gol o tutte quelle azioni che voglio di questo weekend o di tutto l'anno. E quindi anche questo autorizza il calciatore a essere più interessato e avere più informazione. Voglio rivedere tutto quello che ho fatto. Va lì e li trova, già che la società disponibilizza questo giocatore. E poi il giocatore oggi ha molto più opportunità commerciale che non c'era prima. E questo è da misurare. Questo è da misurare perché io dico sempre non possiamo avere due lavori. O sei calciatore o sei influencer o sei rapper. Bellissimo fare influencer. Ma è un lavoro. Non è che la Kim Kardashian va lì e ogni tanto fa una foto. Cioè lei vive da quello. Posso solo immaginare che ci pensa tutto il tempo. Cosa farò? Come si fa? Dov'è il mio gruppo di lavoro? Cosa facciamo domani? Questo è un lavoro. E quindi il calciatore che poi inizia a fare anche troppi sponsor, troppi commerciali, scusatemi tutti, non è fattibile. Non è fattibile perché la tua vita deve essere puntata su calcio. Calcio ti consume tantissimo. Poi ti dà certe volte anche soprattutto quelli che lo vedono da fuori, certe volte hanno l'impressione che c'è tanto tempo libero. Non è così. Se tu prendi il planning, l'agenda mensile o settimanale di un calciatore, ma guardiamo soprattutto il mensile, ne avrà tre giorni liberi. Certo. Trasferte, competizioni. Eh sì. Se tu fai dentista, ne ha otto. Perché sabato e domenica sono quattro. Tu fai calciatore, ne ha tre. Certe volte ne ha quattro. Ah ma l'allenamento finisce a luna. Sono d'accordo. Però questo qua viaggia due volte a settimana. Tre volte a settimana se giochi in Inghilterra. Poi devi tornare a casa, non so a che ora devi dormire. Non è che c'è tanto tempo. Non c'è il tempo libero che uno può immaginare. C'è molto di più come opportunità. Ma io dirò che la sfida ad oggi è gestirla. Anche scegliere l'opportunità. Sì. E scegliere e dire non posso fare tutto. Ah mi porta più soldi? Sì. Però fallo per un anno. Dopo due anni inizia ad andare male il calcio. E quindi tutto crolla. Esempio concreto che è quello di Haaland che probabilmente sposa tutte queste caratteristiche di cui abbiamo parlato. Mi incuriosisce molto la sua giornata tipo. Nel senso che al di là dell'allenamento, della trasferta, mi sembra uno anche molto centrato sia sulla parte marketing. Cioè mi sembra un campione, passami il termine anche, sul singolo contenuto proprio digitale. Cioè mi sembra uno che fa le mosse giuste. E poi appunto se è vero che è così tanto mentalizzato che porta questa cosa all'estremo. Sì. Io non ho mai conosciuto un campione che non porta le cose all'estremo. Il calcio o fuori calcio? Quello che fa bene il suo lavoro è perché è maniacale. Nel senso buono della parola, no? Sono d'accordo con te quando dici cristiano c'è iniziato, diciamo, era, se possiamo dirlo. E' un super atleta. Il super atleta ci è proprio puntato, ci pensa a quello, cioè vive calcio, mangia calcio, è molto organizzato mentalmente. E ovviamente per passare a early, penso che sia interessante come ispirazione anche dirlo. Cioè il ragazzo è perfetto. Il ragazzo è perfetto. Va lì, si allena, sa quando si deve riposare, sa quando può lasciare andare un po', perché anche nella vita ci vuole, è organizzato mentalmente. Sai, io ho il parere che l'igiene di vita c'entra con il tuo risultato sportivo. La sua igiene di vita, nel mio parere, è perfetta. Perché igiene di vita, vuoi dire, so quando mangiare la mia lasagna e so quando non mangiare certe cose. Quindi la sua igiene di vita, per me, è sinonimo di equilibrio. E equilibrio fa che le cose possono andare a lungo. Perché se tu fai qualcosa con troppa esagerazione, a lungo non ci sta. E io dico sempre, questo non è un sprint, è una maratona. La carriera è una carriera d'oggi che può andare 15 anni. 20 anni, molto di più di quello che era prima. Quindi possiamo fare la maratona? Facciamola con calma. Quindi io dirò che non credo che Erling sia mai arrivato in ritardo a un allenamento. Mai saltato un allenamento. Non si è mai lamentato, c'è troppa pioggia, troppo sole, troppo quello, troppo quello. Quello che è, vai lì, lo fa. Siamo arrivati ai Manchester City, primo giorno, due minuti che eravamo lì, mangiava quello che c'era, salutava tutti. Dopo due ore che eravamo lì, mi sento a casa. Ma è certo, sei a casa, no? Ma è bello qua, tutto funziona, la gente è simpatica, lì all'allenamento vado. E fa bene così, ragazzo umile, ragazzo che non c'è esagerazione, fai il suo shopping quando decida a fare shopping, giochi sul Playstation. Quando può, è completamente concentrato sui risultati collettivi. E io credo che i risultati collettivi sono quello che dopo portano il tuo successo, la sua gloria individuale. Lui è famosissimo fin da quando ha 17 anni. In questo, nello stargli accanto, come lo avete aiutato? Perché immagino che lui ha quasi 24 anni adesso, ma ha una vita che non è da 24 anni, diciamo, normale. In questo, come lo avete aiutato? Come lo hai aiutato nel riuscire, al di là poi, diciamo, del suo carattere, però a fargli vivere una vita un po' più normale? Cioè, anche a proteggerlo magari da quelle che sono un po' le problematiche che ci possono essere appunto nel crescere con tutti gli occhi addosso e a lasciarlo un po' ragazzo, di fatto? Guarda, aiutare è una grossa parola, perché sono sicura che lui lo poteva fare anche da solo. Ha una mentalità così puntata che lo fa e lo farebbe da solo, se voleva. Quindi io preferisco scegliere la parola accompagnare. Come l'accompagniamo in questo percorso? Noi cerchiamo di portare, non solo a lui, ma a tutti, giocatore, un senso di normalità, perché il giocatore a un certo livello per forza perdi un po' il contatto con il quotidiano. Il tuo quotidiano, il mio, non è fattibile per loro. Un altro giorno c'è proprio Kylian Mbappé, ha detto, sai che mi piacerebbe andare a bere un caffè e fare un po' la spesa. Io mi ricordo una volta, ho fatto una domanda a Pogba, dove ho detto, Paul, da quanto non vai a un supermercato? Quanti anni fa? E lui nemmeno sapeva dirmi, ma io lo chiedevo in un contesto per dire è normale che se noi non possiamo fare certe cose creiamo un mondo che è un po' solo nostro. E funziona per tutti loro questo. quindi per tornare anche a Darling, so che lui cerca la normalità. Infatti c'è stata questa classica volta a Manchester dove lui va a fare la passeggiata. E tutti lì, lui fa, ma perché mi guardano tutti? Io mi ricordo siamo andati un paio di mesi fa a Bologna e siamo andati a Bologna e ovviamente due minuti dopo sapevano tutti che erano lì. E lui stava iniziando questo, c'è veramente questo passaggio a quello, diciamo, era già al top, ma a un star a livello mondiale. È stata una delle sue prime esperienze in questa situazione. E arriviamo lì, arriviamo in albergo. Possibile. Città bloccata. Città bloccata e andiamo da fuori, da dietro, da di là. E lui fa, ma perché sono qua? Sono qua per te. Dai, non è possibile. E quindi sai questi primi momenti, ma lì ti rendi conto che tu non puoi più andare lì dal macellaio. Non è più possibile. E quindi come mantenere la normalità? Sai, io credo prima di tutto le persone che sono intorno a un calciatore di un certo livello devono per forza capire che lui sta vivendo un'esperienza un po' big brother. Ok. E non va tanto bene, nel mio parere, se noi stiamo lì, ogni volta che vado a casa tua ti chiedo una maglia, ti chiedo la foto, ti chiedo di fare un video per il mio nipoto che è caduto e quindi ha male al ginocchio. Fa un video così lui è contento. e questi tipi di persone che si avvicinano al giocatore tante volte a me danno molto fastidio perché non lasciano a lui avere la normalità all'interno di casa sua. Quindi io dico sempre quelli che vengono a casa, che vanno a casa da un giocatore con me, tramite me o da soli ma possiamo cercare di andare lì perché siamo invitati a casa sua per mangiare? Possiamo parlare di hai visto quella nuova quella nuova che c'è su Netflix hai guardato la partita e quindi io credo che questo ci aiuta mentalmente. Dopodiché non mi sembra molto interessante o costruttivo se questa è la parola stare a parlare con il calciatore sempre quanto sei bello quanto sei bravo mamma mia sei migliore anche questo mi dà un fastidio da morire. Ce ne stanno tanti perché cercano tanti avvantaggi e questi avvantaggi io vedo certi giocatori con questo entourage enorme di queste persone che poi spariscono perché quando finisce la carriera queste persone spariscono ma fanno una vita a girare con il calciatore a mangiare per conto suo i vestiti per conto suo i viaggi per conto suo cioè ragazzi potete cercare una vita per voi perché questo fa ancora peggio questo Big Brother e questo certe volte danneggia perché quando arriva uno antipatico come io che dice guarda non sei bello come pensi perché quello che ho fatto non va bene sai che abbiamo già perso tanti clienti così e il calciatore mi guarda e dice perché si sente sempre adorato io sono sono Dio caduto dal cielo che stai dicendo e questo non va bene perché la critica fa anche parte di questa avventura assolutamente è una bellissima avventura non non voglio appesantirla perché non non è io la vedo così se è pesante non diventi un campione cioè e stranamente e giustamente perché è molto pesante ma la pesantezza dipende tu come la prendi è molto molto difficile fare calciatore ma se per te è facile se per te viaggiare tanto svegliarsi presto allenarsi senza fine giocare quando ha male quando ha male dappertutto prendere un sacco di botta prendere un sacco di critiche se a te è facile fare questo puoi dire sei un campione quindi sei felice assolutamente sì e come normalità mi ha colpito molto il il primo incontro che ha avuto con Delict che ho letto non aveva la carta di rio che donnava il telefono aveva solo questo libro e questa mi ha colpito tantissimo la normalità se mi fai raccontare un po' questo questo incontro e anche mi sembra un ragazzo molto anche lui centrato il ragazzo è perfetto sai ragazzo perfetto cioè tu prendi esempi che è anche facile no Hal Delict cioè prendi quelli perfetti dai prendiamo un po' di quelli brutti sono tutti e due perfetti e Matà è uno di questi ciao ragazzi prima volta che viaggiamo insieme eravamo nell'aereo quella roba chic no? l'aereo privato e quindi eravamo lì e il ragazzo esce un libro no? io guardo a Mino e mi dico cosa fa questo no? e Mino mi fa leggi sempre io ho detto che bello cosa leggi? Mino fa leggi sempre biografie e quindi infatti Matà è sempre piaciuto leggere le biografie per conoscere un po' il percorso di altre persone e quindi leggeva e tutto e e arriva non mi ricordo Natale compleanno qualcosa così e io dico a Mino cosa cosa gli offriamo per suo compleanno no? e Mino mi fa ma sai che lui non ha un portafoglio non ha mai avuto e infatti compriamo un portafoglio lì di un marchio marchi importanti e e lui per la prima volta ha avuto un portafoglio una carta di credito perché è un ragazzo c'è un ragazzo che che dice a me sì ma io voglio andare lì Raffa voglio andare ma non importa i soldi vado comunque Matà questo se lo dice qualcuno io ti sparo certo anche se lo dice a me faccio finta che non ho sentito perché dico per scherzo ma il mio lavoro è monetizzare la carriera no? quindi io dicevo ma per carità di Dio non parlare non parlare non lo dire fuori vado a te stesso no ma io veramente ci vado adesso no non ci vado e quindi no ragazzo ragazzo veramente puntato su calcio pensa calcio mangia calcio vive calcio poco importa poco importa quando vuoi parlare con lui vuoi portare lui a un momento di rilassamento parli di calcio ok si sa ieri parlavamo fino a che ne so mezzanotte di calcio ok poi un altro giorno c'è Max Max quello che ha giocato all'interno certo Max va da lui e so che tutti i due sono insieme a parlare tutto e inizio a chiamare Max perché dovevo parlare con Max ma sono ancora da delirci e sono ancora da delirci una di mattina che fate voi due fino a l'unno che non andate a dormire tutti i due abbiamo perso l'orario perché parlavamo di calcio era troppo bello quindi ragazzo è fatto così come riuscite a far capire la gestione che si passa spesso da zero a cento a livello economico lì riuscite a supportarli ad accompagnarli nella gestione appunto normalmente dello stipendio detto in modo semplice ma proprio in generale anche della come dicevi prima tu gestione anche contrattuale anche della fama legata ai soldi guarda io ho vissuto situazione vissuto ho visto situazione dove i giocatori che hanno fatto tanti soldi hanno perso tutto voi conoscete le statistiche tanti giocatori dopo un paio di anni finita la carriera non hanno niente quindi la gestione di soldi è molto importante la vita non è soldi ma se tu hai guadagnato li devi conservare perché la tua carriera è molto corta finisce molto presto quindi ci vuole molta attenzione oggi il procuratore deve essere coscienti che ce ne stanno c'è tante opportunità e che il mondo ha capito che il giocatore è un grosso investitore è un investitore facile perché è un investitore che ha soldi puliti esatto limitati quasi quasi limitati diciamo è un ragazzo quindi non è non è che non è per smeritare ma non ha fatto scuola di economia nemmeno io l'ho fatta no e quindi tanti vengono per offrire certe cose un po' strane io ho avuto un giocatore che una volta viene da me e dice guardo ho firmato perché ho già firmato perché era troppo buona l'opportunità eccetera ho comprato questa casa ho già pagato il 10% cioè prendo l'atto di acquisto sì 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 cioè dieci passi dentro il mare dove sei ad Atlantida vai a vivere con gli squali no ma ti giuro la casa non esisteva quindi ne ho visti tanti certo ne ho visti tanti e mi sono impaurita perché ho detto cioè ci sono quelli bravi ma anche quelli cattivi e e che cosa ho concluso all'epoca io non ho non posso pretendere avere la capacità o la conoscenza che ci vuole per fare una gestione adeguata cioè di un patrimonio io non ho questa formazione quindi io credo che il procuratore bravo deve avere la umiltà di sapere che non sa tutto come non so fare un intervento al ginocchio non so fare la tua dieta e non so fare la tua gestione di patrimonio ma io se veramente voglio il tuo bene posso dedicare devo dedicare il mio tempo a trovare i consiglieri giusti e a poter offrire a te scelte guarda vuoi fare investimenti che ne so in borsa certo questi questi e questi sono persone che veramente mi sembrano seri da fiducia e onesti parliamo insieme con tutti e tre perché anche non mi piace dire a un giocatore questo è quello che fa la tua gestione di soldi questo fa la tua gestione di soldi chiaramente la tua persona qui vuole scegli tu e così forse a te va bene il biondo forse a te va bene la donna e andiamo avanti e quindi c'è l'agenzia moderna deve essere capace di offrire al giocatore tutto il supporto 360 scelte e c'è secondo me consigli indipendenti poi non è che è un amico mio è un professionale rispettato che può servire a te e che allunga spero io dico sempre al giocatore quando ci conosciamo sono molto giovani no? dico sempre io ti prendo per la mano io ti porto andiamo mano a mano e e e mi fa tanto ridere perché mi viene una storia in mente un giocatore che una volta dice andiamo insieme ho fatto il trasferimento vieni con me fino allo spogliatoio fino lì perché non posso entrare no? va bene il prossimo trasferimento quello che lui fa dopo nemmeno mi invita mi invita a venire allo spogliatoio nemmeno mi chiamano e io sono detta a me meno male perché è cresciuto no? e un po' lì ho detto ti prendo per la mano quando ne hai 12 anni ma quando ne avrai 30 voglio imparare da te e io vedo molto in questo mondo da procuratore un po' di c'è una tendenza una paura una tendenza a infantilizzare non so se la parola il giocatore no? il tuo ragazzo tenerlo nella bolla magica e secondo me tanti lo fanno apposta perché così il giocatore non impara non impara ed è sempre legato alla figura esatto sempre legato dipendente io non sono per la dipendenza io sono per l'indipendenza e amicizia perché se io faccio un buon lavoro ti garantisco che sarai ancora qui io purtroppo c'è i ragazzi da 40 anni mi chiamano ancora e mi chiami a fa ti devo chiamare io ma che pensi se faccio quella cosa mi fa molto piacere vuol dire che rispetta il mio parere anche se hai imparato a avere il tuo e io ho avuto in società una persona che continuava a creare una co-dependence con il giocatore che non c'era senso io vedevo certe cose e dicevo smetti di farlo lui non ha più età per avere questo servizio e lo facevo e a un certo punto l'ho chiamato e ho detto scusa perché continuo a farlo? perché non c'è senso ma spiegami il perché perché forse non sto vedendo qualcosa no no perché se lui impara non ha più bisogno di me ha detto non va bene non va bene perché se lui non impara e tu domani non ci sei come infatti oggi non c'è meno no non ci sei domani cosa fai? non è giusto non è corretto è una sorta di manipolazione e la manipolazione in questo lavoro purtroppo c'è e non va bene e bisogna svegliarsi per questa cosa perché io credo che sia possibile essere un agente sportivo gestire un'agenzia senza manipolare il calciatore è una tendenza è una tendenza che c'è tantissimo infatti tante volte ci sono veramente delle bolle magiche in cui il calciatore viene tenuto da parte esatto come se ci fosse una sorta di muro nel mezzo ma certe volte anche della moglie della famiglia degli amici perché vogliono creare un'importanza un valore certo no? e lasciano il calciatore lì senza la possibilità di crescita e non va bene e questo non è lo spirito di questa cosa un ragazzo che invece mi sembra molto cresciuto è Mkhitaryan che a livello di uomo mi sembra veramente una persona come Delict che abbia tanto da dare anche extra campo ma sono d'accordo è un leader è intelligente è uno che si posiziona politicamente c'è un'opinione c'è un parere è padre è marito è fratello è figlio fa tutto nella giusta misura è veramente un altro ancora una volta mi prendi quelli perfetti ragazzi si tengo i casi in fondo esatto e vedi più età ne ha più performance ne ha esatto questo è la cosa che colpisce c'è proprio la misura è quasi il migliore cioè solitamente diciamo aumentando l'età si va a calare sono d'accordo sono d'accordo anche all'inter mi sembra abbia trovato veramente e la sua performance sale quindi vuoi dire i geni di vita come mangia come vive cioè eravamo insieme un altro giorno cioè questo arriva come fa a arrivare da Cipriani e mangiare un pezzo di mozzarella sai c'è tutta la pasta tutte quelle torte tutte quelle cose no ma perché all'inter mi hanno detto che andava bene se io non prendevo la lattose no lattose non perché era mozzarella glutine mi sembra se non prendevo glutine sì ma giorno libero siamo qua tutti insieme c'è vita c'è tua sorella facciamo non fa bene così sono contento e si mangia quella mozzarella è una disciplina infinita è quello che ci dicevamo prima se sei disposto a renderlo facile lo fa volontieri esatto lo fa volontieri era tutto contento di stare lì con noi non aveva bisogno di quella pasta a lui non ci manca non è che a lui non piace a lui non manca perché ha fatto una scelta per allungare la carriera va bene fare così certo e lui fa così e lo fa felice è ricco è famoso non ha bisogno campione e lo fa comunque c'è troppo bravo ragazzi ti ho portato un po' di casi perfetti non che non lo sia stato ma ti volevo chiedere come sta Pogba io vedo Paul sempre per me Paul è un campione perché è un campione a livello mentale lui è sempre pronto per qualsiasi situazione vuol dire prendi il colpo lo digerisci e va avanti ma non vai avanti in una maniera irresponsabile vado avanti faccio finta che non c'è niente no va avanti in quale senso mi devo preparare mi devo allenare devo essere pronto io certe volte lo faccio apposta dove dico a lui facciamo altra cosa e lui sa rabbia da mati e lo faccio apposta perché voglio essere sicura che lui mentalmente ci sta sia sempre focus e lui fa ma ha fa perché lui non è francese non hai capito io ho tanto da fare devo giocare devo vincere devo finire certe 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 percorsi percorsi esatto e quindi lui ci tieni io ti devo dire che se lui doveva giocare domani entrava in campo e giocava perché non lascia andare un giorno e questo questo va benissimo ovviamente sono momenti difficili e sono momenti da vivere da superare da andare avanti lui è stato un po' per la generazione specialmente in Francia ma anche in Italia un po' un'icona anche a livello di stile a livello extracampo è uno dei primi magari diciamo nati dagli anni 90 in poi che ha aperto un po' quel mondo sì poi è stato uno dei primi e credo all'inizio si parlava anche troppo di quello che faceva lui come i capelli come i vestiti ma soprattutto i capelli esatto e io all'epoca mi chiedevo sì ma ma lui si taglia i capelli ma mica gli altri non si tagliano i capelli perché se non si tagliavano i capelli i capelli erano lunghi a tutti perché lui tagliava aveva già un stile e ha osato si è permesso di esprimere il suo stile ma io dirò che oggi tutti fanno i suoi disegni i suoi coeli i suoi tagli infatti se tu vai alla Lazio oggi c'è il barbiere c'è la sala di barbiere che io dirò una delle più belle che c'è al centro dell'allenamento della Lazio loro sanno come la vedo è molto bella perché c'è il barbiere lì la nazionale brasiliana mi ricordo l'ultima volta che erano insieme portano insieme un barbiere con loro quindi ad oggi è normale quando Polo è iniziato a farlo sembrava notizia era notizia era proprio notizia ma pensi a giocare a noi ai capelli ma veramente qualcuno ha pensato che lui invece di pensare alla partita pensava al taglio pensava al taglio cioè arriva il barbiere lì e diceva sai Polo ho pensato facciamo giallo va bene ovviamente c'era un interessamento perché lui si interessa a queste cose ma non è che prendeva la sua vita poi credo anche che uno che gioca calcio per forza deve avere due o tre cosine al di là del calcio come hobby perché se no è anche un po' troppo maniacale e non va bene ho visto durante All or Nothing sulla Juventus c'era un'intervista al direttore commerciale della Juventus che parlava di Ronaldo e diceva oltre a essere un super atleta a livello sportivo è anche perfetto a livello commerciale cioè lui deve fare un lavoro arriva dieci minuti perfetti e va via cioè campione anche in quella parte lì chi è tra quelli che diciamo che hai conosciuto quello che appunto attività commerciale o comunque attività extracampo arriva e sai che cioè dieci minuti campione fatto può contare su Holland sai che situa 2.53 alle 2.52 lui è lì quindi può stare tranquillo che lui ci va ma io credo che è anche una mentalità una maniera di vedere la cosa il calciatore certe volte perché non sono abituati a questi mondi da commerciale è sempre un percorso da imparare no? è tutta novità certo percorso da imparare anche Paul immagino è stato uno dei primi che ha avuto sì che ha fatto tanto quindi da imparare che quando un sponsor sceglie a te poteva scegliere anche altri io dico questo è un po' il secreto di mestiere che vi dico ma stiamo pronti quando vieni la Nike l'Adidas vuol dire quello di scarpa per forza vengono per il calciatore perché non possono andare da mia mamma per vendere scarpa da calcio no? però uno che deve vendere una bevanda può andare da un calciatore da Beyoncé o da mia nonna perché dipende da quello che vuoi fare vuol dire l'universo di scelte quando parliamo di un sponsor che va al di là di calcio è un universo molto più largo se uno sceglie a te vuol dire che veramente ci ha pensato e ha detto mi fido di questo tipo voglio investire voglio investire quello che ha deciso di investire a te su di te ha fatto una scelta importante per la sua società sia una società grande sia una società piccola da rispettare a tutti non importa se sei la Coca Cola o se sei quello qui all'angolo che vende gelato è un investimento ce ne stanno persone in queste società che hanno messo la faccia per dire all'interno vai da Pogba certo e non da nonna di Raffaella no? e tu ti devi assumere questa responsabilità perché quando uno organizza un filmaggio questo viene pagato all'ora perché lo studio cioè quello che ha la telecamera tutto quello costa tu devi avere cioè il rispetto certo di arrivare all'ora e di venire poi conosco ogni tipo devo anche io avere la cioè diciamo la coscienza di andare dallo sponsor e dire vuoi lavorare con Haaland alle 2.50 c'è perché se tu lo dici 2.50 2.50 c'è vuoi lavorare con qualcun altro perché c'è un po' di tutto può anche farlo ma sape che non arriverà certo quindi diciamo 2.50 lui arriva alle 8 a te va bene quindi io cioè in Brasile si dice c'è quello che è accordato non è caro si dice in Brasile quindi basta saperlo mi è capitato c'è sponsor che vengono e dicono voglio fare quello giocatore e dico non è per te ah perché perché non è per te tu lo fai e litighiamo certo vuoi farlo ti faccio un disclaimer certo no oh sì ok andiamo avanti ma cioè dobbiamo essere chiari nel discorso no no assolutamente e sono molto curioso di sapere anche da questo punto di vista un ragazzo che in Italia conosciamo molto bene che è Verratti ma che di fatto è come se non lo conoscessimo perché nel 2012 l'abbiamo salutato non l'avevamo mai più rivisto lui è sempre stato appunto in Francia adesso ha fatto la scelta di andare in Qatar a livello di gestione mi sembra un ragazzo molto pulito tranquillo guarda così facile che non so che cosa dirti così cioè ragazzo indipendenti maturo come dici tu non l'avete più visto e questo vuoi dire che sono emigranti io sono emigranti e quindi è un passaggio che lo capisci solo gli emigranti ti fa crescere in due giorni perché cambia l'idioma cambia la tua vita cambia il cibo cambia cambia l'aria veramente cambia cambia l'acqua la cultura cambia tutto cambia il lavoro e tu devi crescere in una velocità perché se no se non cresce così veloce il mondo ti mangia poco importa se sei calciatore o se sei venuto per fare un altro lavoro e quindi e io dirò che anche ti chiudi di più e quindi si si guarda mi viene una scena una storia il giorno che arriviamo al PSG con Zlatan Marco stava firmando era ancora quello PSG dal primo momento non il primo passaggio perché Maxo è stato il primo quando hanno perso lo scudetto con Montpellier diciamo all'inizio poi e poi perché i catari arrivano fanno già un piccolo calciomercato di gennaio dove prendono Maxwell e poi fanno il calciomercato di estate e noi arriviamo con Zlatan stesso giorno che Marco stava firmando era lì con il suo procuratore e non c'era ancora la sede nuova di PSG c'era una roba così piccola così quindi entrava uno usciva l'altro e non c'era l'aria condizionata infatti nella stanza dove facevamo i contratti e c'era Leonardo che faceva la barzelletta poi non mettete l'aria condizionata solo dove stiano l'avvocati perché così soffriamo e finiamo più veloce ma proprio bellissima strategia perché era da morire e Marco usciva ma era un era un bambino ragazzi c'è un bambino lì uscito da sud Italia e quindi ovviamente questa esperienza l'avrà cambiato dovete chiedere a lui ma ma è diventato molto indipendente quindi è tutto molto facile ma secondo te prima o poi dovremo tornare in Italia dovete chiedere a lui magari non voglio rispondere a queste cose che fanno solo a Pescara magari fanno solo casino so che si trova da Dio in Qatar chiaramente da Dio in Qatar cioè Qatar che ho visto io prima volta quando sono andata con Montesine 20 anni fa quel tempo fa era un Qatar molto diverso di quello che c'è oggi anche durante il mondiale abbiamo visto che bellissimo cioè c'è tutto l'espansione calcistica c'è tutto c'è tutto espansione calcistica c'è tutto quindi si trova bene e io ho l'impressione mi permetto di dire che i qatari non si fermeranno lì ok perché secondo me porteranno altri campioni e vedremo ancora belle cose lì e invece la gestione di Zlatan com'è stata guarda questa è una gestione molto di più di Mino è veramente una roba c'è stato proprio un rapporto molto personale tra di loro e quindi io credo che sia meglio far parlare io non posso parlare per Mino l'ho vissuta da Mino non posso parlare per lui il rapporto procuratore giocatore è un rapporto molto umano e la nostra società è una società che non ha mai avuto tantissimi giocatori non vuoi dire questo sia giusto o sbagliato vuoi dire il nostro profilo è sempre stato così per avere proprio questo rapporto molto personale quando tu scegli fare così diventa un rapporto molto intenso e molto profondo funziona con certi giocatori e non funziona con certi giocatori tu hai anche due ragazzi uno molto giovane e uno giovane che uno è Zeroli che è al Milan e l'altro è Turam che è a friend Turam volevo sapere innanzitutto faccio un esempio con Zeroli ma vale per tutti la gestione della fase di carriera in cui da ragazzo si diventa subito adulto perché come dicevamo prima di Marco Verratti lo step adolescenza uomo accade in un pomeriggio quando sei così famosa quando sei giacca e calcio che com'è la gestione faccio un esempio di sua ma in generale anche del ragazzo che è a un livello in cui deve comunque capire la scelta giusta da fare guardi sono cose molto diverse è proprio un bel paragone perché quando tu vedi chi Marco ha cambiato paese tutto tutto molto strepitoso diciamo tu prendi Kevin e questa è veramente una fortuna di poter esprimere il suo talento in una società vicina da dove è a casa sua e questa è una grandissima fortuna ti riporta sempre sulla terra ma diciamo nel senso in cui non hai dovuto staccarti della famiglia cioè quando puoi tornare a casa andare di là questo ti permetti crescere secondo me a un ritmo più normale più giusto anche forse per la tua età più compatibile con quello che è la nostra la nostra cultura no e e quindi lo ce l'ho vissuta perché siamo insieme da un tempo io ho vissuto ho vissuto con lui questo cambiamento che mi piace tanto perché all'inizio era proprio un ragazzino certo non lo è più non è più un ragazzino è diventato un uomo da un giorno all'altro ma ha potuto farlo con serenità con serenità nel tempo giusto e io dico sempre vuoi giocare in prima squadra deve essere un uomo chiaro cioè certe volte vengono da me i ragazzi o i genitori ma vai lì mi hanno fatto non so che cosa può parlare con l'allenatore può parlare con il direttore no ah ma perché tu hai la forza no non posso parlare perché se tu pensi che sia che sei pronto per giocare per veramente portare questa maglia deve essere pronto per andare dal tuo allenatore e dire cioè mister perché non ho capito devi avere la forza sportiva di farlo ma certo ma con educazione con rispetto ma devi farlo e torniamo con le storie di dipendenza e indipendenza perché così veramente diventi qualcuno che può prendere quel cioè quel momento in campo dove deve prendere certe decisioni sei un uomo assolutamente e Kevin per me è un ragazzo pronto un ragazzo pronto e come è lì per paragonare con che freno è molto è molto interessante perché questi sono casi molto diversi tu hai Kevin che viene di una famiglia non calcistica quindi certe cose tante cose che lui vive sono nuove sono nuove e quindi noi quando confrontiamo le sue esperienze le sue le sue vicende si dice si 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 i genitori lo vedono molto è normale come genitore certo e quindi hanno reazione certe volte da genitore lo devo proteggere ma mio figlio che è normale parli con Lili Anturen che cosa vuoi fare calciatore vai lì figlio mio svegliati e fai quello che devi fare perché perché la famiglia la famiglia una famiglia di calciatore il discorso è diverso è come Holland famiglia di calciatore no e quindi io sto ridendo perché è divertente perché i papà sono più cattivi di me in questo caso perché l'hanno vissuta loro sanno loro conoscono il percorso e quindi sono maniere molto diverse di gestire una situazione e qual è giusto qual è sbagliato non c'è non c'è sono cose diverse ma ovviamente che Fren essendo cresciuto in una casa di calciatore una famiglia di calciatore è stato trattato da calciatore assolutamente da bambino secondo me anche se non diventava calciatore si comportava comunque in quel modo si comportava come calciatore mi ricordo la prima volta che l'ho visto era piccolo così lui e Marcos due piccoli così loro ovviamente non si ricordano erano bambini ma l'episodio a me ha impattato in maniera divertente c'eravamo lì c'era la Juve era in ritiro non so dove lì vicino a Torino eravamo lì e Lilian è qua era sabato non so perché all'epoca si usava sabato le famiglie venivano potevano entrare eccetera non so perché le famiglie erano lì e e Lilian che parlava c'era c'era Pavel c'era Lilian non mi ricordo chi c'era so che arrivano questi due ragazzini bellini papà 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 tre volte papà papà sì sto parlando che volete no e loro fanno vogliamo una coca cola papà una per due ma sai proprio generale ma proprio nel senso come si fa nel calcio no ok e questo è da pressare tanto lui poteva facilmente rovinare questi ragazzi a questi ragazzi rovinarli no è fatto il contrario lui ha creato questi ragazzi con la stessa mentalità di un calciatore e loro hanno messo il lavoro e avevano il talento tutti e due per veramente trasformare questo in calcio è fantastico probabilmente anche nell'approccio allo spogliatoio fin da ragazzi hanno avuto una marcia in più da questo punto di vista secondo me sì secondo me sì perché conoscevano già esatto si aspettavano già l'hanno già vista ovviamente non l'avevano vissuta ma l'avevano vista e secondo me questo è stato veramente importante visto anche ad alti livelli poi che comunque penso che faccia la differenza non è che hanno visto qualcosina esatto e poi e tu e stranamenti o forse non stranamenti sono quelli più umili ok perché sono quelli che sanno veramente senti che questo è un percorso ma non è tutta la tua vita e in questo percorso ti deve se tu ti comporti di una certa maniera va più lontano e la dopo carriera è più serena nel rapporto con la fama ti è mai capitato dicevamo prima di magari un giocatore che per uscire si è dovuto camuffare mi viene in mente Ronaldo a Disneyland ti è capitato? mi è capitato mi ricordo una volta che noi dovevamo fare qualcosa ok diciamo così e e Paul si mette la capuccia no? capuccia si dice si si capuccia si mette la capuccia e Paul e doveva entrare da dietro nell'aeroporto e quindi va lì entra da dietro e qualcuno l'ha beccato perché pensavano c'è questo qua è un terrorista che viene a rubare qualcosa e io non c'era io l'aspettavo già nell'aereo e lui arriva dopo si toglie la capuccia e mi hanno beccato pensavano che io venivo a rubare qualcosa a fare qualcosa cattivo ovviamente ma dove vai tu con questa capuccia? ti è tutto di nascosto si va in mezzo agli aerei all'aeroporto ma ovviamente che pensano così possiamo stare calmi lui rideva mi ricordo Ronaldo a Disneyland con i baffi la barba lì quando va in giro si deve coprire non è che serve tanto perché non è così piccolo è biondo altissimo ma copre un po' perché se ovviamente vedono quello biondo con quella coda è fatta e quindi c'è un po' di discrezione ci aiuta ma loro sono troppo alti è quello che è il problema con Berratti e gli altri magari hanno avuto forse passa ancora mi interessa sempre il rapporto con la fama ma stavolta legato ai social perché sicuramente rispetto a quando hai iniziato c'è stata questa variabile che non era che non era prevista è cambiato tanto tantissimo io dirò che i social ha cambiato nel mio mondo da calcio ha cambiato il mondo prima perché il giocatore che aveva già una voce ma per esprimerla dipendeva da voi la stampa e voi potevate decidere quanto spazio o meno dare a quella persona ma soprattutto potevate decidere prima quale personaggio volevate creare e io l'ho vissuta certe volte con calciatori che veramente hanno sofferto con questa situazione perché perché quando la stampa decideva concepire un personaggio X era molto difficile uscire da questo personaggio con social il giocatore ha la possibilità di veramente fare vedere lui chi è e deve decidere sempre ci sono sono discussioni che ne ho con loro molto spesso e sempre in evoluzione quando ne ha 15 anni è diverso di quello quando ne ha 20 ma può decidere deve decidere quanto vuole fare vedere della sua vita privata perché la verità è che la vita pubblica si vede dappertutto no c'è andiamo da voi è molto facile mostrarla la vita privata la vita privata devi trovare tu calciatore la tua zona di conforto quindi io parlo molto con loro ti faccio tante domande e io dirò che la zona di conforto di delirte non è la stessa di ratti perché forse tu hai voglia di fare vedere il tuo arbero di Natale e un altro no certo no? e quindi prima di tutto si deve capire dove vogliamo andare e poi possiamo parlare di quello mondo che abbiamo deciso sono le nostre frontiere no? quello che io vedo nel social è la possibilità di fare vedere tu veramente chi sei ok io dico sempre tu hai anche la possibilità di utilizzare social per soggetti che ti possano interessare e che sono importanti per la comunità dove vive se sei pronto se hai voglia no? quindi forse tu sei sensibile a certi soggetti per esempio animali in Amazonia no? possiamo anche utilizzare queste tue pagine per create awareness no? e io trovo molto importante perché i calciatori hanno una voce e questa voce secondo me è sotto utilizzata non è ancora utilizzata come sarà secondo me fra qualche anni e questa voce si è utilizzata bene se diciamo se noi troviamo la giusta maniera di utilizzare una parola forte il potere che ne ha il calciatore possiamo fare tante cose importanti io tante volte ho letto nell'inbox del calciatore anche nel mio già dai grazie perché con questi momenti che possiamo vivere insieme in queste pagine la mia giornata è migliore già qualcosa è stata fatta e questo è qualcosa di importante no? perché il calcio è bello ma il calcio è molto più di calcio calcio è motivazione è ispirazione calcio può essere la ragione per cui un ragazzo continua ad andare a scuola assolutamente il potere è enorme prendiamolo in mano utilizziamolo bene utilizziamolo bene per fare qualcosa che forse insieme farà con questo nostro mondo sia un mondo migliore e questo social c'è è l'angelo e il diavolo no? se lo utilizziamo bene fa bene al calciatore fa bene alla società non società di calcio ma società in generale ma è che diavolo perché se tu diventi maniacale inizi a guardare a te stesso tutta la giornata pensi che il mondo giri intorno a te stesso e con tutti gli algoritmi come sono fatte ovviamente questi programmi più guardi a te stesso più arrivano cose a te stesso quindi mi accade certe volte i giocatori mi dicono guarda quello che hanno detto da me non posso dormire tu vai a vedere c'è una pagina twitter di uno che ne ha tre seguaci e uno dei seguaci è la sua mamma e quindi che te ne frega quello che ha detto questa persona possiamo andare a dormire quando sei maniacale sei maniacale e quindi qualche anni fa quando un giocatore leggeva troppo la stampa e iniziava a fare male a lui era molto facile tu dicevi al giocatore facciamo un accordo un compromesso mi fai la cortesia di non leggere per un mese se c'è qualcosa ti dico era possibile ad oggi non è possibile basta un tag ma anche se tu non vai a leggere se i tuoi amici vedono qualcosa che a loro dà fastidio inizia a arrivare su tu whatsapp guarda che ha detto questo scemo di allenatore ha parlato così e il giocatore viene caricato quindi noi abbiamo tutto un sistema di appoggio in ufficio per controllare questa cosa non perché vogliamo leggere tutto tutta la giornata ma al contrario dobbiamo sapere quello che sta accadendo perché così i giocatori sa che sta succedendo aspetta abbiamo la giusta informazione perché certe volte se tu prendi tre secondi di una conferenza stampa è completamente diverso di quello che avrà detto l'allenatore in mezz'ora molto spesso molto spesso infatti noi parlavamo prima di questa tendenza a fare polemica e quindi tanti vogliono la polemica la polemica può servire a avere click ma la polemica non ci aiuta nello spogliatoio e quindi dobbiamo capire la differenza ma soprattutto la buona gestione di social è una gestione secondo me salutare che fa bene perché ancora una volta ti dà la possibilità di esprimerti ma un social senza gestione giusta è veramente secondo me un cancro è un disastro l'ultima cosa che ti chiedo è la trattativa più difficile che hai dovuto fare nella tua carriera le trattative più difficili ne ho avuto con Mino dove dovevo o volevo se avevo ragione o meno non lo so convincerlo di fare qualcosa che non voleva e quindi no no ci volevano sgridate cose buttate porte che si sbattono minacce ce n'è una che magari eravate in disaccordo ma di una volta Mino voleva comprare una società di calcio io ho detto la compri è l'ultimo giorno che mi vedi e tu di ma perché non ti piacciono sì mi piacciono tantissimo non è il nostro lavoro non lo sappiamo fare non lo sappiamo fare non sono proprietari di società di calcio deve essere una cosa bellissima un'esperienza bellissima per quelli che sanno fare e lasciamo agli altri veramente complimenti chapeau Ferran Sorian chi vuoi tu sai come vuoi tu ma non era per noi non era per Mino soprattutto dove vai con la società di calcio va a litigare con tutti come presidenti di società scusami vuoi andare in lega a litigare con Galiani forse sì perché litighiamo abbastanza con Galiani tranquillo no e quindi quella è stata dura a convincerla a non farla è stata molto dura grazie mille a te grazie a voi ti sia divertita ti sia stata comfort grazie a voi grazie a voi